Buongiorno, Dillo al Ministro è l'iniziativa che la nostra testata ha promosso in queste ultime settimane. Abbiamo invitato i nostri lettori a segnalarci un loro problema, a segnalarci una questione, a farci una proposta da girare al Ministro, proposte per migliorare il sistema scolastico o anche molto semplicemente proposte desunte dalla propria pratica quotidiana. E di questo parliamo con Ivana Barbacci che è la segretaria generale di CISL Scuola, ovviamente con lei parliamo di ciò che è emerso dal nostro lavoro, dal nostro sondaggio, riferendoci soprattutto alle questioni più rilevanti da un punto di vista della politica sindacale, delle richieste anche di natura sindacale o parasindacale che gli insegnanti ci hanno fatto in questo sondaggio. Allora, guarda, segretaria, io direi di partire subito da un punto. Ovviamente, come puoi ben immaginare, tanti insegnanti hanno segnalato l'esigenza di migliorare le condizioni economiche, che su questo mi pare abbastanza ovvio, mi pare abbastanza normale, però anche con delle sfaccettature interessanti, cioè gli insegnanti non chiedono soltanto stipendi migliori, questo è scontato per l'appunto, come abbiamo detto, ma chiedono anche delle cose particolari, per esempio dicono che si potrebbe migliorare le condizioni degli insegnanti anche utilizzando strumenti come l'indennità di trasferta, il buono pasto, un ampliamento dell'uso della carta del docente per acquisti anche non necessariamente di libri per la formazione. Per esempio gli insegnanti di scuola dell'infanzia dicono potrebbe essere utile poter usare la carta docente anche per comprare del materiale da usare con i bambini, diciamo c'è una richiesta un po' di introduzione anche nel comparto scuola di quelli che vengono chiamati benefit. Ecco, che cosa ne pensi tu e che cosa ne pensa il tuo sindacato di una proposta di questo genere? Sì, l'azione che è stata posta l'ho raccolta anch'io in molte occasioni, in molte assemblee che abbiamo realizzato in queste settimane, mi sono state rappresentate esattamente queste esigenze di diciamo affiancare ad una retribuzione più giusta, quindi più adeguata, sulla quale nessuno può dire il contrario, quindi una condizione negoziale di contratto che dia una spinta significativa anche alle retribuzioni tabellari, come si suol dire, affiancare a questo una seconda condizione che consenta di rispondere a molti degli impegni economici di cui si fa carico il personale della scuola. Uno può essere la copertura dei buoni pasto, nell'altro caso eventuali indennità di missione, qualora si facessero uscite didattiche, ricordo che le indennità di missione erano state introdotte, sono state introdotte fino a qualche anno fa, seppur in una maniera molto simbolica, poi sono state eliminate nello specifico appunto delle uscite didattiche. Per quanto riguarda la copertura economica dei buoni pasto, questo è consentito oggi con risorse contrattuali solo ai docenti e al personale ATA che è in servizio durante la mensa insieme ai bambini, quindi parliamo di personale che è impegnato nei tempi pieni, nei tempi prolungati. Oggi la complessità dell'organizzazione del lavoro prevede una serie di articolazioni che necessariamente devono immaginare un welfare, io lo chiamerai welfare contrattuale, che come segretaria della scuola sono molto ben disposta a trattare e a costruire ex novo. Ecco, ad esempio noi potremmo lavorare e ci impegneremo a farlo affinché vengano destinate delle risorse per il piano dell'offerta formativa e per il fondo del piano dell'offerta formativa che fa capo alle scuole, alle istituzioni scolastiche. Senti segretaria, per esempio c'è un problema che molti docenti segnalano e che è reale e cioè di quei docenti che sono impegnati con il loro orario anche su più plessi, magari non proprio vicinissimi fra di loro. Per esempio negli istituti comprensivi molto spesso ci sono docenti che si devono spostare da un plesso all'altro e che magari in una settimana mettono insieme anche un centinaio di chilometri fatti con la propria auto, con il proprio mezzo. Quindi questi insegnanti giustamente rivendicano anche un sostegno per queste spese. Sì, questo è un altro degli esempi, i cosiddetti insegnanti a scavalco, che vanno da un plesso all'altro nella stessa macchinata. Però mi preme sottolineare che tutta questa articolazione particolarmente complessa del lavoro non può essere declinata da un contratto collettivo nazionale di lavoro perché ne perderemo dei pezzi in termini di rispondenza piena a questa complessità. Allora va fatta ricadere come competenza nella contrattazione di secondo livello. Però ci vogliono le risorse. Esattamente. Quindi questa è un po' la linea di indirizzo che mi sento di dare come risposta a legittime aspettative sulle quali possiamo e potremo lavorare prossimamente. Senti segretaria, c'è ancora un altro problema a questo proposito che molti docenti ci segnalano. Soprattutto negli ultimi anni, in particolare da quando si è incominciato a parlare di PNRR, il lavoro dei docenti sembra essersi un po' appesantito e anche burocratizzato eccessivamente. Anche voi come sindacato avete questa sensazione? Sì, è una condizione reale, è una pesantezza e una rigidità di cui il sistema soffre da troppo tempo e un obiettivo importantissimo è proprio quello della semplificazione e anche della riconduzione a quelle che sono le vere radici dei profili professionali. Cioè, se si è insegnanti, il vero snodo è quello che si fa in aula, non quello che devi fare fuori dall'aula in termini burocratici. Però a questo va corrisposta un supporto, un sostegno organizzativo, amministrativo che ad esempio ricade sulle segreterie, anche se sono fortemente caricate di pesi burocratici amministrativi che non riescono a sostenere. Quindi c'è un impianto complessivo che ha fatto spostare il baricentro dell'azione della scuola, invece a quelle che sono le finalità e le condizioni vere educative e formative. Ecco, dobbiamo uscire dalla logica dell'adempimento, fare in modo che gli organi collegiali scelgano in maniera molto selettiva le cose da fare e da avere un supporto in termini anche di risorse che, butto là questa cosa, possono essere dopo un po' di tempo, dopo trent'anni di servizio, si possono anche alleggerire i carichi di lavoro degli insegnanti con tanti anni di servizio in termini di ore di insegnamento. Questo aiuterebbe molto ad alleggerire il carico e a utilizzare al meglio le esperienze di chi ha un bel background di insegnamento. Senti, c'è qualcuno che fa anche una proposta un po' curiosa che però molti anni fa era molto discussa, molto dibattuta, cioè propone una sorta di doppio binario per chi vuol fare il mestiere dell'insegnante. Praticamente mettere in piedi un po' un meccanismo come quello che c'è nella sanità, medici a tempo pieno che lavorano sempre in ospedale e medici a tempo parziale, una parte dell'orario in ospedale, una parte come preferiscono loro. Ecco, secondo te per i docenti si può pensare ad un meccanismo di questo genere o è impensabile? Il primo passo è far emergere il lavoro sommerso, cioè quello che non è visibile e quindi cominciare a fare una riflessione ad esempio sulla possibilità, l'opportunità di fare un orario omnicomprensivo che contenga sia il lavoro d'aula che tutto il lavoro legato alle ore funzionali all'insegnamento che sappiamo sono identificate dal contratto ma spesso sono invece bypassate proprio perché il carico di lavoro è molto più superiore rispetto a quello identificato dal contratto. Allora immaginare un orario omnicomprensivo che preveda sia l'orario di insegnamento che ha legato alla propria disciplina più settimanalmente le ore destinate alle attività funzionali però in questo caso dovremmo ripristinare un principio che tutto l'impegno si svolge a scuola e non lo puoi svolgere in parte a casa in parte a scuola ma tutto ciò che è evidente e certificato si deve svolgere a scuola e qui c'è il tema degli edifici scolastici, dell'edilizia, degli spazi adeguati anche per gli insegnanti. Dopodiché quello che viene rappresentato è una proposta che mi pare anche interessante però mi sento di dire dobbiamo davvero rifletterci su come comporla, su come organizzarla. Di certo mi sento di impegnarmi in prima battuta per fare in modo che ogni impegno sia ben identificato che tutto quello che afferisce anche al lavoro che non è espressamente di aula ma è funzionale all'insegnamento sia in emersione certificato e individuato. Questo già farebbe fare farebbe fare un gran passo avanti anche a la identificazione della complessità di questo mestiere quindi intanto farei a tappe sinceramente. Certo sì anche perché diciamo la verità non pochi insegnanti segnalano anche un fatto io non lo so se è reale o meno perché non ho esperienza diretta però molti segnalano che ci sono insegnanti che hanno un lavoro come dire collaterale alla lezione piuttosto impegnativo o comunque molto più impegnativo rispetto ad altri insegnanti perché chi insegna latino e greco in due o tre classi di un liceo classico ha certamente un impegno extra lezione superiore a chi insegna materie che non prevedono le prove scritte o chi insegna educazione fisica scienze motorie come le vogliamo chiamare insomma quindi c'è questo problema gli insegnanti lo stanno sollevando sempre più spesso quindi forse una soluzione qui va trovata non lo so se con la contrattazione di secondo livello in un altro modo però è un tema sentito dagli insegnanti ecco non so quali possano essere le soluzioni perché non è il mio non è il mio mestiere però è un problema che gli insegnanti sentono cosa ne dici sì è un problema sentito che abbiamo raccolto anche noi in molte occasioni mi sento di dire questo che dobbiamo cominciare una riflessione che finora non c'è stata in maniera sufficiente in maniera seria articolata oltre a quello che hai rappresentato direttore c'è anche ad esempio la complessità nei molti insegnanti che individuano nel numero delle classi quindi a prescindere dalla disciplina o da quanto tu devi prepararti per disporre le lezioni anche il numero delle classi elevato determina una complessità quindi sono tutti indici di una serie di condizioni molto diversificate che devono essere analizzate però torno a dire secondo me in un luogo più vicino al luogo di lavoro senti e poi c'è un ultimo problema ultimo perché lo cito io per ultimo ma è un problema anche questo molto sentito credo ormai ineludibile che è il tema della carriera docente cioè molti insegnanti che hanno risposto al nostro sondaggio alla nostra alla nostra proposta dicono sì però non si può continuare con un sistema bloccato per cui l'insegnante entra in ruolo e fa sempre l'insegnante dal primo all'ultimo giorno della sua vita allo stesso modo cioè ci vuole ci vorrebbe una maggiore flessibilità poi c'è il problema collegato del middle management che anche qui molti mettono in evidenza cioè riusciremo nei prossimi anni non lo so se già con il prossimo contratto ad affrontare un po più accuratamente questo tema che è sentito dai docenti sì è molto è un tema molto sentito e io ritengo che non sia più rimandabile mi sento di dire che i tempi sono maturi per accogliere e raccogliere questa esigenza di superare quella linearità che diventa anche appiattimento di una professione e non ci non si può ambire solo ed esclusivamente a diventare dirigenti scolastici se si vuole fare un mestiere diverso da quello dell'insegnante quindi noi dobbiamo lavorare e io auspico e dal mio punto di vista farò tutto quello che è nelle mie possibilità nelle nostre possibilità per fare in modo che già dal nuovo contratto si avvii questo processo posso dire questo che abbiamo un'occasione che è quella della del dl 36 il decreto pnrr diciamo introdotto col precedente governo e che deve prendere piede in questi anni proprio per spendere anche risorse che provengono dal pnrr quella è un'occasione per noi molto preziosa perché potremmo intanto superare l'idea del docente incentivato che arriverebbe dopo dopo nove anni di formazione a rimanere docente potremmo utilizzare la formazione un sistema di crediti per poter oggettivamente individuare figure che oltre all'insegnante possono andare a ricoprire incarichi di responsabilità che sono già oggi presenti nelle scuole quindi andremo a rispondere a una condizione che già di fatto si esercita in maniera continuativa in tutte le scuole altrimenti le scuole non ce la farebbero senti segretaria l'ultimissima questione la nostra iniziativa come abbiamo detto si intitola dillo al ministro ecco se tu avessi partecipato al nostro sondaggio e avessi voluto o dovuto scrivere un dillo al ministro tu che cosa gli avresti detto ma lasciamo da parte ovviamente le questioni strettamente sindacali ma tu come cittadina che cosa diresti al ministro cosa vorresti da questo ministro allora io vorrei che la scuola tornasse al centro del dibattito politico e che quindi diventasse il programma nel programma di un governo uno dei punti centrali intorno ai quali poi costruire anche gli investimenti economici e quindi si tornasse ad esempio però ad ascoltare la scuola e non a far parlare della scuola da fuori quindi fare un'operazione di raccolta dei bisogni in termini anche di restituzione di una certa dignità di un profilo professionale che è fortemente distrattato dall'opinione pubblica e anche purtroppo da chi la scuola la frequenta o dai genitori dalle famiglie che vivono la scuola più come un obbligo e una costrizione che non come l'opportunità quindi rimettere al centro dell'attenzione delle politiche del governo il valore fondante del sistema scolastico è il primo è la prima cosa in seconda battuta prima di fare qualunque uscita o iniziativa o intervento dialogare e ascoltare i bisogni che provengono da chi la scuola la fa tutti i giorni bene quindi aggiungiamo per il ministro anche questa osservazione questa proposta di ivana barbacci segretaria generale di cis la scuola e quindi chiediamo e noi ci uniamo a questo ovviamente chiediamo al ministro maggior attenzione e maggior ascolto verso la scuola maggior ascolto degli operatori ma anche maggior ascolto delle famiglie degli studenti insomma di tutti gli attori che in qualche modo hanno a che fare con il mondo della scuola bene grazie a ivana barbacci buon lavoro alla prossima grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti